è finito finalmente il mese di agosto e quindi andiamo a fare il resoconto dei investimenti per il mese d'agosto del 2020 ciao a tutti ragazzi benvenuti al mio canale io sono davide oggi andiamo a fare l'analisi dei miei investimenti per quanto riguarda il mese d'agosto nell'anno 2020 prima di tutto voglio ricordarvi di poter lasciare un like per voi è gratis di mettere anche un commento a me serve tanto con l'algoritmo per farmi crescere poi andarvi iscrivere e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati tutti i video che vado a caricare inoltre tutto ciò che andrà a dire non sono consigli finanziari ma mie opinioni personali basate su e studi e esperienze fatte nel tempo ricordatevi io sono un ragazzo di 34 anni che sta provando si sta approcciando al mondo degli investimenti e sta portando periodicamente questo genere di video proprio per far vedere alle persone come è possibile crescere da zero e arrivare a un punto a ottenere un obiettivo ben preciso il mio obiettivo è quello di riuscire ad avere la libertà finanziaria la mia libertà finanziaria ossia riuscire a sopperire a tutte le spese quelle logicamente obbligatorie momentaneamente poi ci sarà anche lo step delle spese che vorrò sostenere solo e soltanto per il mio divertimento quindi riuscire a sopperire a tutte le spese obbligatorie come affitto come tasse bollette e quant'altro solo e soltanto grazie ai miei investimenti quindi incominciamo cripto investimenti agosto 2020 e fa anche rima tra parentesi incominciamo con l'asset allocation generale come potete vedere sono cambiati un po i parametri questo perché l'ultima volta avevo inserito all'interno del mio cash tutti i soldi che disponevo proprio in generale quindi qualsiasi investimento liquido che potevo subito convertire o anche tutti i soldi che potevo avere direttamente nel conto in banca e dentro al mio portafoglio ma in realtà ho pensato di inserire solo e soltanto le cripto scusate non le cripto lute ma il denaro quindi le fiat che sono all'interno del mio fondo di emergenza un fondo di emergenza che arriverà a un punto prestabilito il mio punto prestabilito momentaneamente ancora è in fase di verificato perché il bambino sapete incomincia a portare delle spese e quindi mi sto ancora bilanciando bene o male ho visto che le spese di un bambino sono all'incirca 150 200 euro ma col tempo andando a crescere aumenteranno anche le spese di scuola infatti sarà il primo mese di asilo proprio questo e poi ci saranno sicuramente altre spese che momentaneamente non posso aspettarmi posso soltanto prevedere all'incirca ma realmente non so quali sono quindi in questo fondo di emergenza io inserisco momentaneamente tutti i soldi anzi un 10 per cento del mio income automaticamente viene spostato dentro questo fondo di emergenza dopodiché vedete la quantità dei soldi del bot che non sono aumentati tranne per quanto riguarda i miei investimenti e quindi il mio frutto che tutto ciò che ho guadagnato in questo mese quindi tutto il bot che mi ha generato dei soldi è cresciuto grazie a lui stesso quindi io non ho inserito nulla in questo mese e siamo rimasti comunque anzi siamo aumentati a un 16 per cento perché diminuito il cash dopodiché il mio portafoglio di criptovalute è del 53 per cento anche questo questo mese non è aumentato grazie a degli investimenti che ho fatto perché questo mese ho alcune cose da dover seguire o un mio amico che sto aiutando o la mia ragazza che ancora non è tornata al lavoro e dobbiamo comunque anzi vogliamo fare un viaggio perché tutto quest'anno praticamente l'abbiamo passato chiuso in casa il primo periodo perché il bimbo era piccolo il secondo periodo perché c'è stato l'allarme del virus e adesso invece non riusciamo più a conciliare alcune settimane per andare in ferie quindi abbiamo trovato una settimana e quindi i soldi che potevano servirmi per andare ad investire ho preferito invece utilizzarli per andare a fare questo viaggio questo non significa che non utilizzerò dei miei soldi in questo mese per andare ad investire però rispetto a quello che faccio normalmente ossia appena mi arrivano i soldi che del mio stipendio prendo una parte lo investo immediatamente farò una cosa che teoricamente nella finanza personale non si fa ma l'ho fatto proprio perché in questo mese preferivo invece di che investire andarmi a fare un viaggio anche perché non lo facevo praticamente da natale e allora ho preferito aspettare fine mese quindi il prossimo stipendio per vedere cosa mi rimaneva e quanto potevo investire all'interno del mercato per quanto riguarda il mese di luglio 100 euro 50 euro mi basterebbero anche solo quelle ma lo vedrò alla fine del mese tanto comunque le mie spese so come funzionano le riesco a gestire e quindi non ho spese impreviste a meno che non succede qualcosa che purtroppo spero non capiti e quindi il mio portafoglio cripto momentaneamente è rimasto fermo ma sembra essere cresciuto solo e soltanto perché ho cambiato la quantità di cash all'interno del di questo plano istogramma ecco dopodiché cosa è successo portafoglio criptovalute allora come vedete qui anche non sono aumentate né diminuite tranne per gli interessi che ho guadagnato ho guadagnato degli interessi su bitcoin su ethereum su cardano e su tron su hive momentaneamente non ho ancora guadagnato nulla e non guadagnerò ancora nulla non vedo l'ora di riuscirla a trasmutare in una quantità di criptovalute che sicuramente utilizzerò per andare a far funzionare meglio il bot perché mi sta portando tantissimi risultati e soprattutto sto trovando la quadra per cercare di riuscire ad avviare un bot che non mi dia più pensieri giorno dopo giorno per andarlo a controllare quindi in questo momento voi vedete un bitcoin che al 59 per cento e tirum 13 cardano 8 tron 12 e 8 tron non è aumentato solo e soltanto perché la quantità di criptovalute che ho ricevuto tramite staking e mi ha dato questo aumento addirittura del dodi fino al 12 per cento ma perché il valore di tron proprio stamattina mi sono svegliato e l'ho trovato a tre centesimi e mezzo mentre ieri sera era due centesimi e 9 quindi comunque è aumentato e io quindi ho voluto portare questa modi a portare questa modifica inoltre vi mostro logicamente dove sono il mio asset allocation per quanto riguarda le criptovalute momentaneamente o bitcoin che è fermo all'interno di bloc fi con un 6 per cento di interesse e tirum 4.5 per cento ma molto probabilmente lo sposterò all'interno del bot proprio perché voglio cercare di aumentare in maniera un po più veloce e spedita e tirum anche perché in questo momento sto guadagnando solo il 4.5 per cento annuo quindi andando a vedere le strategie che sto imparando a utilizzare sul bot credo che con questa quantità di e tirum che posso utilizzare per andare a fare proprio delle transazioni di speculazione con etidium su altre criptovalute posso sicuramente ottenere addirittura il 5 per cento mensile non il 4.5 anno quindi voglio cercare di spingere il più possibile poi come vedete wallet esterni c'è tron in staking ada in staking ancora non sul suo wallet originale ma ancora purtroppo su binance proprio perché non sono ancora certo dell'utilizzo dello staking di ada perché sto vedendo che comunque ada non sta salendo tantissimo e lo staking è all'incirca il 5 per cento mensile quindi non è un qualcosa di veramente importante non so ancora onestamente se andarlo a investire proprio su di esso quindi vedremo ancora e poi sapete benissimo hive è in hold fino a quando non si sblocca totalmente il capitale anche se potrei prendere parte del capitale spostarlo e incominciare a farlo lavorare sul bot molto probabilmente sarà quella una dei miei movimenti futuri di questo mese ma ancora non sono certo devo aspettare qualche giorno per decidere e alla fine andiamo a vedere i guadagni di questo mese per quanto riguarda le criptovalute come vedete con tron sono riuscito a sviluppare 39 coin di tron quindi in questa maniera sono riuscito ad ottenere un euro e un dollaro e 39 centesimi di guadagno con 39 coin di tron una cosa importante è da farvi notare ossia che all'inizio avevo circa 5.500 tron steccati invece in questo aumento 5571 quindi cosa significa che quei 71 tron che anzi quei 71 meno 39 tron che sono stati inseriti mi hanno dato un aumento nella nella percentuale di guadagno di criptovalute arrivando addirittura ad ottenere 9 tron mensili in più rispetto al calcolo che mi ero fatto perché il calcolo era di circa un tron al giorno adesso addirittura riesco ad ottenere un 9 tron in più al mese quindi diviso per 30 giorni all'incirca mezzo tron in più al giorno è una cosa molto interessante anche perché io vedo tron una criptovaluta che può crescere e soprattutto voglio che tron non venga mai toccato a livello di investimento è soltanto un mio pallino non è un qualcosa che il progetto è potente o quant'altro voglio soltanto provare ad ottenere staking da tron lasciando quell'investimento di circa 90 euro fatto all'inizio anzi neanche 90 mi pare fossero 70 euro una cosa del genere poi abbiamo cardano che mi ha sviluppato pochissimo su binance infatti ho guadagnato soltanto 9 centesimi molto probabilmente sposterò tutto quanto ma ancora come vi ho detto non sono certo perché potrei utilizzare quel cardano per quindi quell'ada per andare a fare addirittura col bot dei movimenti e andarlo ad accumulare non sono ancora del tutto certo di quello che sto dicendo infatti devo ancora ragionarci un pochino ma se dovesse succedere una cosa del genere molto probabilmente sicuramente riuscirei a guadagnare di più perché in questo momento cardano ada è bloccato su binance neanche bloccato perché nei risparmi a 1.8 per cento annuo un qualcosa di insulso che potrei fare tranquillamente nell'arco di un paio di giorni o neanche sul bot quindi ci sto pensando anche sotto questo punto di vista e poi c'è bitcoin che grazie a blockfi mi ha fatto guadagnare 4.6 dollari in corrispettivo ma voi sapete benissimo che io vado ad ottenere quantità in bitcoin quindi la mia quantità è di 0.00039 satoshi e spiccioli mentre su ethereum ho ottenuto una quantità di ethereum pari a 79 centesimi anche qui per questo vi sto dicendo che sono veramente pochissimi quelli che sto guadagnando per ethereum ecco perché voglio spostarlo anche se gli ethereum sono 0.0016 e spiccioli realmente potrei guadagnare molto di più andando a utilizzare il bot in unica direzione con tantissimi entry order all'interno di un bot già inserito e quindi riuscire a fare sicuramente molto di più rispetto a una quantità simile questo è il mio progetto appena mi sbloccano i soldi su blockfi questo perché c'è un qualcosa che non avevo scoperto praticamente quando si va ad inserire un wallet sul quale andare ad inviare dei soldi bisogna aspettare sette giorni questa è una sicurezza che il servizio di blockfi utilizza per cercare di non far sì che le persone mettano un wallet e trasferiscono immediatamente i soldi invece loro metto voi mettete un wallet loro vi mandano un'email vi dicono che il giorno tot all'ora tot ci sarà questo voi avete sette giorni di tempo per andare a modificare cancellare questa cosa nel momento in cui non è stato colpa non è stato una vostra azione andare a inserire quel wallet perché magari qualcuno si è impadronito del vostro del vostro account e quindi non vi siete presi il non avete più la possibilità di trasferire o cambiare il wallet di destinazione quindi c'è questo blocco io non lo conoscevo adesso lo conosco meglio esperienza e quindi devo aspettare sette giorni quindi l'otto di questo mese si sbloccherà la possibilità di fare di fare questa transazione dopodiché quando farò questa transazione sposterò tutti i miei tirium sul bot e inizierò a farlo andare in unica direzione long per quanto riguarda proprio la cripto valuta non vedo l'ora di poterlo fare anche perché è proprio quello che sto cercando di fare da tempo ossia accumulare il più possibile e tirium e bitcoin per poi riuscire a utilizzare bitcoin logicamente come interesse composto su bloc fai o qualche altro servizio simile invece tirium andare a utilizzarlo per cercare di fare proprio anche staking ma a riuscire ad arrivare alle cripto valute quindi 31 monete di tirium è un po difficile insomma sono veramente tante rispetto a quello che momentaneamente posseggo questo è il sono i progetti futuri progetti futuri che in alcuni casi sono sicuri da sviluppare in altri ancora li sto diciamo pensando vediamo se riesco quindi l'aumento del mio cash flow del mio fondo di emergenza del 10 per cento di income utilizzando il 10 per cento di income per ogni mese quindi significa che io prenderò il 10 per cento del mio income ogni mese e lo inserirò all'interno del mio fondo di emergenza fino a quando non arriverò a una quantità ben precisa che come vi ho già detto sto ancora calcolando perfettamente ma ho già un'idea poi e tirium spostato su da bloc fai a bot come vi ho già detto succederà tra il lotto e il dodici perché lotto mi attiveranno il wallet solo che poi dato che non sono dei wallet proprietari quelli di bloc fai quindi non sono tua proprietà ma sono di bloc fai e di gemini hanno bisogno di essere confermati con alcune alcuni passaggi che potrebbero richiedere qualche giorno di movimentazione quindi a questo punto bisogna aspettare due o tre giorni per essere certi che questa transazione venga effettuata dopodiché c'è il pack pensione pensionistico che vi avevo detto che voglio creare in etf 100 euro al mese su questo pack pensionistico in etf non ve ne parlo ancora perché sto ancora definendo gli ultimi le ultime cose all'incirca ho capito come farlo su cosa farlo e sicuramente ha un profilo di rischio abbastanza alto anche perché sono una persona che ha soltanto 34 anni ha la possibilità di poter guadagnare anche da altro ha delle competenze che possono essere rivendute in maniera molto veloce quindi rischiare ciò che sto investendo all'interno di questo pack pensionistico non è una un problema per quanto mi riguarda ma sicuramente mi possono dare dei rendimenti abbastanza buoni pack pensionistico che significa che ci saranno almeno 30 anni di accumulo di questo pack perché ne ho 34 in questo momento a più 30 anni saranno 64 cosa significa andrò in pensione a 64 anni no probabilmente non andrò in pensione mai non perché si dice che non si andrà mai in pensione ma perché io ho l'idea che da qui a x tempo riuscirò a creare delle mie entrate quindi mie aziende che mi daranno una possibilità di poter lavorare con una con piacere su dei dei lavori o comunque degli argomenti che mi interessa portare avanti per tutto il resto della mia vita quindi non mi faccio problemi di pensione immediata o finire il tempo pensiero il tempo di lavoro ecco non mi interessa pensare quando finirò di lavorare probabilmente lavorerò tutta la vita e poi ottenere un eth quindi un ethereum speculando con il bot questo è il mio obiettivo per il prossimo mese riuscire a fare praticamente il cento per cento di quello che ho investito all'interno di ethereum è un traguardo molto difficile da ottenere perché il cento per cento praticamente è come fare proprio il cento per cento del portafoglio molto difficile ma sto vedendo alcune opportunità grazie proprio a delle criptovalute in defi che stanno uscendo all'interno di binance e quindi c'è possibilità di riuscire a fare una cosa del genere dopodiché fare un pack a mio figlio come avevo detto 100 euro al mese per quanto riguarda proprio il suo fondo che tra 20 30 anni gli daranno la possibilità di essere scusate se ve lo dico ma quasi un milionario cosa eccezionale cosa che purtroppo io non posso dire di poter di aver ottenuto però c'è la possibilità per mio figlio e quindi voglio provare a fare questa cosa e inoltre arrivare a 500 iscritti sul mio canale in che maniera continuando a produrre 3 4 video al mese scusate a settimana per tutto il mese molto probabilmente ci arriverò mi mancano circa 30 iscritti e all'incirca questo mese sono entrati proprio 30 iscritti dentro il mio canale basta che vado a beccare qualche altro video interessante come può essere magari il trading automatico o come può essere magari una tipologia di investimento o qualche spiegazione particolare e sono certo di riuscire ad ottenere quegli ultimi 30 iscritti che mi servono per arrivare a 500 iscritti il mio obiettivo era entro fine anno di arrivare a 1000 è ancora molto difficile riuscire ad ottenere perché significerebbe ottenere circa 500 iscritti in ottobre novembre dicembre quindi solo 3 mesi quindi significerebbe avere 150 anzi più di 150 170 iscritti al mese e dato che momentaneamente ne ho soltanto 30 170 sono praticamente più del di 5 volte la quantità di iscritti che momentaneamente riesco a produrre ma c'è sempre la possibilità io sono fiducioso nel potere di youtube e di tutto quello che faccio e quindi molto probabilmente ce la farò e questo è per quanto riguarda i miei investimenti nell'agosto 2020 io vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace commentare qui sotto iscrivervi al canale attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare e andare a visitare il mio account instagram davidevasco85 grazie per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ragazzi